Sono partiti a che ora? Alle otto e mezza stamattina da Piazzale Costituzione. Quante scuole hanno partecipato? Quattro mi pare, la regioneria, liceo scientifico, il magistrale e le scuole superiori. Quante persone avete contato? Saranno un migliaio, un migliaio di ragazzi. Un migliaio di ragazzi, si è svolto tutto regolarmente? Fino adesso sì. Problemi al traffico? Un po' di viabilità per il blocco stradale, però per il resto è andato tutto verso. Grazie.